Ciao a tutti sono venuto qua in Turchia perché mi hanno parlato di eccellenza di trappianto di capelli nel mondo ed effettivamente ho constatato in pratica la veriticità di questo che mi hanno detto quindi consiglio a tutti soprattutto agli italiani se hanno problemi di capelli di venire qua a istanbul e soprattutto da anatomica ciao a tutti peace